buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro spazio espositivo di varedo in brianza uno dei sette showroom che le aziende del gruppo bonomi pattini mettono a disposizione dei propri clienti in diverse regioni del nord e centro italia oggi vorrei parlarvi di un marchio esclusivo commercializzato dalle aziende del gruppo bonomi pattini il pannello fonoassorbente bootpacker composto da una miscela di materiali naturali quali legno cemento portland polvere di marmo e acqua che insieme formano un pannello isolante naturale e sostenibile la presenza del cemento portland garantisce un'elevata resistenza all'acqua e al gelo oltre ad elevate proprietà meccaniche quali la resistenza alla flessione e alla compressione il prodotto si divide in due tipologie bootpacker n la cui larghezza della lana di legno è 3 mm e bootpacker abie con larghezza di un millimetro i pannelli sono disponibili nel formato standard 1200 per 600 mm e disponibili su richiesta nei formati 2400 per 600 e 2000 per 600 mm i spessori che vanno da 15 a 75 mm bootpacker è il materiale ideale per rivestimenti verticali e allestimenti feristici e può essere inoltre personalizzato con svariate sfumature di colore può essere lavorato facilmente con i classici macchinari del legno e tutti i prodotti messi nel mercato dispongono di marcatura ce per approfondire tutte le caratteristiche del prodotto oppure per richiedere un campione potete visitare il nostro sito internet www.gruppobonomipattini.com oppure scrivere direttamente una mail all'indirizzo marketing chiocciola gruppobonomipattini.com grazie per l'attenzione alla prossima con un nuovo incredibile materiale grazie a tutti grazie a tutti ciao